10 semaforo 5 4 3 2 1 andiamo sinistra piena 100 accendo destro 80 mi raccomando le staccate destra piena 40 sinistra piena subito il cartello destra 3 in meno chiude 3 in meno chiude in sinistra piena forse butta fuori in accendo destro in tornante sinistro più più apri vai bene l'uscita per destra piena 30 destra 3 più apri vai forse il binario 150 all'albero ritarda destra 2 più apri vai 30 sinistra 2 più apri suddosso 150 a vista molta attenzione non la forzare troppo destra 2 chiude 2 chiude in una sequenza anticipa sinistra 3 più in destra 3 meno corda per attento butta fuori e brutta sinistra 2 più corda chiude da ritardare aspettala in destra 2 più lunga in sinistra piena suddosso 120 a vista bene qua giù destra 2 corda in molta attenzione sinistra 2 più corda chiude bene la chiusura qui in destra piena in dosso subito destra 4 corda in sinistra piena lunga mettici il cuore qui eh 200 forse acqua si arriva la nostra curva eh all'albero sinistra 3 non la forzare troppo la staccata 20 entra è brutta la nostra sinistra 3 meno corda 100 via ora giù molta attenzione video ritarda sinistra 2 più corda chiude sfrutta tutta la strada eh per destra 3 più all'albero chiude 2 entra va fatta bene eh questa entrata aspettala via ora in sinistra piena lunga lunga in accenno destro sacrificalo eh perché c'è da staccare a rail sinistra 2 lunga 100 destra destra 4 non tagliare chiude 2 c'è palla interna in anticipa sinistra 4 meno per destra 4 30 è una sequenza brutta questa eh attento destra 3 meno no subito attento sinistra 2 in destra 4 apre 50 destra 3 meno lunga chiude 70 un'altra sequenza attento destra 2 chiude è brutta questa eh in sinistra 2 2 per anticipa destra 3 meno altra sequenza in anticipa sinistra 4 in destra 4 in sinistra 2 chiude 2 chiude in non tagliare sassi interni destra 3 meno bravissimo 3 meno 100 a vista all'albero Bibio ritarda poco destra 2 più apre vai vai 200 bene l'inserimento eh via giù al palo entra sinistra 2 chiude 2 chiude in destra piena chiude 100 attento non tagliare eh destra 2 più 60 sinistra piena 100 destra 4 100 sconnessi è sconnessa eh la sinistra 3 più apre 20 sinistra 4 lunga lunga 2 tempi 1 e 2 in sinistra piena per destra 3 meno chiude 100 acqua interna eh non tagliare sinistra 3 meno meno apre 80 video destra 2 più apre vai vai 60 sinistra piena per al palo attento sinistra 2 più eccola qui in dosso sinistro vai vai subito subito destra piena e dosso scende 100 destra 3 più lunga vai entra in sinistra 4 meno sconnessa sudosso in accenno sinistro 20 al palo attento sinistra 2 più chiude eccola qua 2 più chiude in sinistra 4 in destra 2 chiude 2 chiude in sinistra piena si arriva al salto dosso dritto tieni la destra 50 destra 3 meno 3 meno e apre sinistra 2 sale video 100 con dosso su asfalto destra 3 più chiude 3 più chiude 200 a vista tranquillo 3 meno chiude questa 70 destra 4 chiude terra forse acqua è più importante questo pezzo la ventola accesa in accenno sinistro 50 palo anticipa sinistra 2 apre vai 2 apre vai 50 bene l'inserimento sinistra piena sudosso 30 dosso per destra 2 chiude aspetta la destra 2 chiude in sinistra 4 sudosso 200 a vista sinistra 4 meno chiude asfalto inizia la zona inizia la zona nebbiosa 200 fammela bene credici qua su la staccata all'albero molta attenzione sinistra 3 meno sconnessa per sinistra 4 meno sudosso in sinistra in sinistra piena 100 destra 3 meno chiude 2 meno corda va fatta bene la chiusura 2 meno corda in intrasinistra 2 più chiude con dosso in sinistra 4 corda 200 a vista dosso pieno 100 molto attenzione dosso lungo lungo stacca al cartello alle scieppe sinistra 3 meno lunga lunga agli alberi chiude chiude bene la chiusura inserimento importante 100 con dosso e ancora 50 molta attenzione destra 3 meno per destra 2 più lunga in destra 2 meno chiude in tornante destro scende e da qui si cambia ritmo a Sandrino eccolo qui il tornante poca roba e via sinistra 2 80 destra 2 più sacrifica la questa perché c'è la sinistra 2 chiude chiude eccola qua per poca roba sinistra 3 meno per destra molta attenzione chiude 3 meno chiude 3 meno in dosso pieno 100 è da qui che ci vuole il cuore destra 3 meno in molta attenzione destra 2 meno chiude dove scende in è sconnessa la sinistra 2 più lunga lunga 2 più lunga lunga al cartello chiude eccola qui la chiusura concentrato cose semplici destra 3 in dosso sconnesso 50 vista con dosso in destra 3 meno lunga con dosso vai alla nota in molta attenzione sinistra 2 più lunga con dosso eccola qua giù c'è molto fango stai sinistro molta attenzione destra 2 più con dosso per entra sinistra 3 meno sconnessa 30 molta attenzione dosso sinistro 50 vista che scende sconnessi molta attenzione all'albero sinistra 2 e da qui la zona è molto fangosa sinistra 3 meno su dosso per attento sinistra 3 meno chiude 50 al palo dosso subito molta attenzione destra 2 meno per sinistra 2 meno meno chiude subito destra 1 meno meno in molta attenzione sinistra 2 meno lunga lunga chiude scende per destra 2 2 la destra in sinistra 3 meno per destra 4 chiude 2 va fatta bene la chiusura eccola qui in dosso subito anticipa poco sinistra 2 chiude in destra 2 meno chiude 30 sinistra 3 meno lunga su dosso subito subito molta attenzione sinistra 2 meno meno chiude corda 20 fango destra 2 meno 70 a vista si arriva una serie di scambi è molto tempo attenzione anticipa sinistra 2 meno meno subito attento destra 2 meno meno in sinistra 2 meno chiude forse acqua 40 destri dosso in destra 2 meno eccola qua in dosso per molta attenzione dosso destro in sinistra 3 su dosso per attento sinistra 2 acqua in sinistra 3 meno corda in dosso per molta attenzione per molta attenzione entra sinistra 2 meno all'albero chiude chiude in dosso subito destra destra 2 meno chiude chiude in anticipa sinistra 2 meno entra per destra 2 più chiude subito subito entra sinistra 2 meno chiude chiude in in inizia con dosso destra 3 30 destri molta attenzione è brutta questa qua sinistra 2 meno chiude chiude subito destra 3 meno 30 sinistra 3 meno su dosso con l'attenzione 50 all'albero dosso sinistro stai a sinistra e molta attenzione destra 2 chiude è importante la linea in fango sinistra 3 lunga su dosso per destra 2 scende 40 destra 2 lunga chiude in sinistra 2 meno lunga chiude chiude in fondo c'è la strettoia è brutta aspettala subito destra 2 via molta attenzione destra 2 meno su dosso subito molta attenzione sinistra 1 più apre scende in destra 2 meno 50 vista mi raccomando l'uscite anticipa sinistra 2 c'è la compressione qua su 50 sale destra 2 meno chiude con dosso in accenno sinistro buca in destra 4 per sinistra 3 diventa 2 meno lunga rosso attento chiude chiude è importante questa chiusura in sinistra 4 su dosso via ora con l'uscita per destra 2 più chiude per destra 3 meno 10 con dosso subito destra 2 più chiude per sinistra 2 meno con dosso apre per sinistra 2 meno chiude con dosso scende 20 pango destra 2 meno chiude 2 meno chiude in anticipa sinistra 2 meno 50 a vista sinistra 3 più calmo 3 più subito attento sinistra 3 meno meno sudosso per destra 2 corda scende video sinistra 4 dai ci siamo quasi 50 destra 3 più sudosso 20 alle frasche ritarda sinistra 2 meno c'è una sequenza di 2 qua giù in destra 2 più chiude entra vanno fatte bene per destra 2 meno chiude subito 2 più chiude subito fango sinistra 2 meno dai grinta qui 20 entra sinistra 3 meno 40 attento con l'attenzione destra 3 meno lunga chiude sconnessa entra sinistra 2 meno chiude chiude 30 attento all'albero destra 2 meno lunga lunga chiude dai ci siamo quasi in anticipa sinistra subito destra 2 apre ci si è fatta a finire la prima prova ci si è fatta a finire la prima prova su terra bravo Sandrino hai visto? con calma si fa tutto bene bene che c'è l'escrizione l'escrizione che c'è